Volevamo sapere se è stato stabilito un piano su come andrà a finire questa, dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare? Presenti questa mattina all'esterno dell'hotel Poseidon, anche alcuni sfollati dopo il crollo della palazzina domenica 18 luglio, per chiedere risposte alle istituzioni. Il sindaco Luigi Mennella ha fatto il punto della situazione sul piano di rientro, spiegando che i tecnici sono al lavoro da questa mattina per effettuare controlli di tutte le palazzine, al fine di assicurarsi che non vi siano rischi e predisporre il progressivo rientro nelle abitazioni. Voi sapete tutti che è stato sottoposto al sequestro domenica ieri e l'altro ieri con la procura, ovviamente l'area e il palazzo crollato. Da stamattina i tecnici del comune con altri tecnici che sono stati individuati dal comune per fare anche prima, per guardare la staticità dei palazzi. Quindi nei prossimi due o tre giorni noi sapremo anche quali sono le unità abitative, idonee e le altre che chiaramente non saranno. Ovviamente il palazzo crollato è un dato di fatto, per cui sapremo anche quante persone possono rientrare a quel punto. Cerchiamo anche di fare un punto della situazione e creare un ragionamento che possa innanzitutto tutelare, mi sembra logico, il palazzo che è crollato e questa è la prima cosa. E poi guardare quale sono le unità. Noi speriamo che chiaramente possono rientrare tutto, almeno ce lo spieghiamo, in modo tale che ci dedichiamo esclusivamente al palazzo che è crollato. Per il resto sono 48 ore che dobbiamo capire. Voi sapete, chiedo scuso perché voi sapete anche la disponibilità dell'amministrazione, tant'è bene che parecchi di voi sono stati messi qui allo del Poseidon, altri in altri alberghi. Insomma è crollato tutto in 24 ore e ovviamente con grandissime difficoltà, ma devo dire la verità anche loro si sono comportati, insomma hanno capito un po' tutti quanti l'emergenza. E stiamo lavorando ormai da nove giorni insomma tutti insieme per cercare di dare innanzitutto a voi che insomma capiamo il momento e quindi tutto ciò che possiamo fare lo so. E quindi noi faremo di tutto chiaramente per mettere al vostro agio. Questo lo posso dare per certezza. Dovete darci 48 ore per capire effettivamente come sono messe le cose dal punto di vista di staticità e poi proseguire. Chiaramente devo dire anche... La sicurezza delle persone che rientrano ovviamente sulla base del piano di rientro che farà fra 48 ore il comune. La regione è pienamente disponibile a dare una mano ma dobbiamo avere un piano che elabora il comune. E' stato infatti proprio con Giulivo ci siamo tante volte interfacciati per la protezione civile proprio per capire insomma eventualmente. Quindi siamo come dire momento per momento lavorando sopra. Questo è qua.